amici carissimi buongiorno buona domenica buon caffè oggi volevo parlare di un argomento per dimostrarvi che sotto mille profili il nostro paese non è un paese normale e quindi quelli che sono principi inseriti anche nel nostro ordinamento regole in generale che potrebbero avere anche una buona finalità concepite così come si suol dire pro boni mores per un buon fin in realtà da noi non possono avere applicazione oggi vi parlo del principio della particolare tenuità del fatto con riferimento ai reati allora c'è una norma nel nostro codice penale che dice giustamente anche che quando la cosa è veramente lieve non ha significato dover applicare quindi è una causa di esclusione della punibilità di applicare una sanzione penale faccio un esempio passo vicino ad un fruttetto prendo un albicocca non mi possono condannare per furto come giusto che sia certo non mi sono comportato bene ma non si può dire che sono un ladro perché ho visto un albicocca dentro un fruttetto e ne ho presa una allora l'altro giorno è accaduto un fatto gravissimo a reggio emilia ai miei colleghi della polizia di stato della polizia ferroviaria in questo caso cos'è accaduto c'era una persona un uno straniero che si comportava male in stazione lo hanno accompagnato negli uffici per l'identificazione le procedure all'interno degli uffici della polizia ferroviaria e questo ha commesso il reato o meglio una serie anche di reati a danno di una mia collega perché ha cominciato a palpeggiare a toccargli il seno le tette e questo è una molestia sessuale è un reato pieno e non è per nulla neanche grave poi cosa ha fatto ha tirato fuori il suo coso non me lo fate definire e ha cominciato a masturbarsi e ha finito l'operazione con esito positivo non me la fate definire i miei colleghi lo hanno arrestato dopodiché l'ho portato dal magistrato il quale ha avvallato ha approvato l'arresto ma lo ha messo immediatamente in libertà perché il fatto è di lieve entità di particolare tenuità questa persona è uscita quindi il fatto è di una gravità allucinante questa persona è uscita e prima con un coltello lo hanno di nuovo arrestato perché disturbava delle persone disturbava non so commetteva magari furti poi lo hanno dovuto denunciare perché con un bastone per la terza volta per la terza volta tentava di rapinare scusate il telefono ma lo metto via subito tentava di rapinare una persona un disabile quindi il fatto è gravissimo anche in questo caso lo hanno arrestato vedremo domani mattina cosa succederà con il magistrato allora il problema vedete questa norma è stata concepita anche con un senso perché non si può ponire una persona perché non so per esempio in un ente pubblico una persona si dimentica di aver preso una carta prende un foglio di carta dalla risma se lo porta a casa oppure come ho detto prima prende un albicocca da un albero questo non è voglio dire la norma ha un senso il problema che il nostro non è un paese normale per cui lasciando quello che è definito il libero non dico libero arbitro il libero convincimento al magistrato la libertà di applicare come vuole per tutta una serie di motivi molte volte abbiamo visto di carattere ideologico o di valutazioni un po astratti anche sballestrati in con imprensibili non è possibile applicare le norme che fosse che sono state concepite anche sotto legge da del buon senso non è possibile quindi questa norma in parte nel decreto sicurezza per quanto riguarda i comportamenti lesivi nell'ordine pubblico quindi la particolare tenità non potrà essere fatta valere ma io credo che vada un attimino tolta perché stiamo togliendo stiamo commettendo un'ingiustizia a togliere ma lasciarla commetteremo un'ingiustizia ancora maggiore perché lo ripeto il nostro non è un paese normale se uno straniero viene viene portato nell'ufficio di polizia si mette a toccare le tette ad una poliziotta si masturba viene denunciato per molesti per aziosceni quello che sia e poi alla fine viene lasciato perché il fatto di particolare tenuità con un coltello tenta una rapina poi nuovamente con un bastone a danno ad un disabile tenta una nuova rapina allora figlio caro qui c'è qualcosa che non funziona perché io comunque io comunque fin dal primo istante mi sarei posto un problema ma questa persona è normale ammesso che non sia nella capacità di intendere di voler perché a me viene anche il dubbio che se una persona io arresto una persona la porta in ufficio di polizia comincia a molestare sessualmente una poliziotta e si masturba lì davanti io vengo colto dal dubbio che questo non sia normale quindi dispongo prima di rimettono in libertà una perizia o comunque un accertamento medico per vedere se ci siamo con la capoccia o meno questo non accade perché è completamente arbitrario alla fine l'interpretazione della legge questo non va bene perché questo è fonte di grandissime ingiustizie quindi credo credo il primo passo lo ha già fatto nel decreto sicurezza bis il ministro salvini per vedere nei comportamenti nei reati contro l'ordine pubblico ma dovremo rivedere credo anche negli altri settori e credo che uno degli emendamenti che dovrà essere presentato e di cui mi faccio anche promotore debba andare in questa direzione perché altrimenti qui credo che sia la nostra società che sia un pochettino fuori di testa a lasciare le cose se lascia le cose come oggi sono perché ripeto il nostro purtroppo non è un paese normale e bisogna in qualche modo rilimitare certi parametri perché se si lascia la discrezionalità di applicare in maniera così fantasiosa non secondo lo spirito del legislatore fantasiosa l'ordinamento in sede giurisdizionale allora noi non ci siamo proprio con la capoccia con questo vi auguro a tutti una buona domenica un buon caffè un abbraccio a tutti amici cari